Oggi vi faccio vedere un bel regalo per le mamme creative Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te Ritorna Tintoretto su Arte per Te Voi sapete che la Tintoretto Pennelli è un'azienda che accompagna il lavoro di Arte per Te Collaboriamo ormai da tanti anni con Tintoretto E per collaborazione non intendo che mi paghino per parlare di loro Ma intendo il fatto che mi facciano provare i loro prodotti E poi io se mi piacciono li recensisco E fino ad oggi non è mai capitato che un prodotto inviato mi da Tintoretto Non mi piacesse e non mi commuovesse per la sua perfezione In questi giorni mi è arrivato un prodotto meraviglioso Che io ho messo da parte e ho detto devo farlo vedere ai ragazzi Per suggerirlo come regalo da fare alle mamme per la festa della mamma Vi parlo della Watercolorist Palette Pocket Case Vi faccio vedere lo scatolo E ora vi dico di cosa si tratta Si tratta di una custodia super super elegante E poi esce questa bellissima mezzaluna in legno Con inciso il logo della Tintoretto Che si apre attraverso le scanalature laterali E da questo lato ha i vani per creare i guazzetti di colore Mentre da questo lato ha i vani per accogliere i godè di acquerello A sua volta poi si chiude Si apre dall'altra parte E da questa parte invece in dotazione Custodisce tre bellissimi pennelli per acquerello Vi faccio vedere Pennello numero uno in Martora Kolinsky Il 1326 Guardate che meraviglia Ghiera dorata per questo bellissimo pennello in Martora Il secondo pennello invece è un sintetico vaio Voilà E anche questo diventa un bellissimo pennello Stabilissimo E il terzo pennello è un sintetico bronzo Quindi tre finiture diverse Per tre pennelli Dalla performance molto diversa A seconda di ciò che dobbiamo fare Un oggetto meraviglioso Di grande eleganza Da regalare a chi sappiamo ama l'acquerello Perché è un astuccio molto pratico Piccolissimo Poco ingombrante Che chi fa acquerello Può mettere in borsa E per esempio per un viaggio Avere la propria tavolozza La propria postazione colore Tutta racchiusa All'interno di questa Pochette Meravigliosa Che racchiude L'essenza dell'eleganza E dell'artisticità Bene Sembra uno sponsor Ma in realtà non è così È bellissima Quando me l'hanno regalata E sono rimasta Meraviglia delle meraviglie E tra l'altro la tintoretto Cura moltissimo In ogni particolare I propri prodotti E ne ho avuto la riprova Perché questa qua La prima volta Mi era arrivata molti mesi fa Me l'avevano già regalata Poi mi hanno detto Aspetta ombretta Vogliamo apportare Un'ulteriore miglioria Che è stato Includere il vano In plastica Da questa parte In modo da non rovinare il legno Perché prima era fatta Tutta il legno E quindi Un'ulteriore miglioria Per fare performare Ancora meglio il prodotto C'è uno studio Molto attento A quella che è La necessità del pittore Ed è un qualcosa Di veramente elegante Vi dico solo Che quando Gabriele L'ha vista Mi ha detto Questa la regali a me E io gli ho detto Va bene amore Questa la regalo a te Quindi per me Non andrà Alla mamma In questa famiglia Però Però Per voi È un ottimo spunto Per un'idea regalo Oggi sono qui Per recensirvi Questa meravigliosa Watercolorist Palette pocket case Questa appunto Palette Che può contenere Gli acquerelli Godet Questi qua Più piccoli E contiene Al proprio interno Tre pennelli Uno di Marto Rakolinski E due sintetici Un sintetico vaio E un sintetico bronzo Che sono dei pennelli Top di gamma Nella produzione Della tintoretto Che è appunto La casa madre produttrice Di questo gioiellino Tutto made in Italy Questo è il retro Della confezione Dove sono messe Tutte le specifiche Mentre la parte anteriore Si presenta Così Molto bella Ed invitante Avvertenza I Godet Non sono inclusi Nella confezione Ed è facilmente Vincibile Dal retro Su cui sono messe Le specifiche Quindi Vado a Aprire Tadà Custodia In velluto Molto Molto Elegante Da cui Tiriamo fuori La nostra Bellissima Palette Una tintoretto Made in Italy In un bellissimo Legno Molto Bello Molto Elegante Guardate Le rifiniture E adesso Scopriamola All'interno Apriamo La metà Superiore Vaschettine Per il contenimento Dei guazzetti Di colore E vani Per l'accoglienza Dei Godet Dall'altra parte Invece Troviamo Tre pennelli Quello In martora Con ischi È argentato Ed è Bellissimo Eccolo qua Guardate Che eleganza Questi pennelli Che Aperti Sono Come Dei Normalissimi Pennelli D'acquarello Però Con un'impugnatura Veramente Di super lusso Molto Molto Bello Questo È quello In martora Colischi Questo È il Vaio Numero Due E questo Invece È il Bronzo Numero Quattro Quindi Sono Un due Un quattro E credo Un sei Bellissimi Molto 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 Belli Questo Bellissimo Astuccio Artigianale Legno Di ciliegio Non ve l'avevo Detto È in ciliegio Può contenere Fino a nove godè E adesso Compongo il mio E vi faccio vedere Quella che per me È la tavolozza Di colori Ideale Quella che Quando Devo portare Pochi colori Scelgo Come la migliore Innanzitutto Vado di Pseudo primari Dico Pseudo primari Perché io Non scelgo mai Il magenta Ma scelgo Sempre come Rosso Il cadmio Adesso Poi vi dico Perché Come blu Un blu Ciano E come giallo Metterò Appunto Il giallo Primario Io preferisco Questo Perché Il magenta In acquerello Me lo ricavo Molto semplicemente Con La La lacca Di chiaranza O molto Molto Diluita Che Metto in palette Ma non la metto Qui La metto Qui giù Accanto al Rosso lacca Io Metto Un indispensabile Il terra Ombra Naturale Questo mi serve Per Antichizzare i toni Creare patine Fare acquerelli Semplicemente Con questo tono E il bianco Del foglio È un colore Che è mischiato Agli altri toni Li scurisce Senza ingrigirli E li antichizza Moltissimo Quindi nella mia palette C'è sempre Dà un tocco Molto romantico A tutte le creazioni In cui lo mettete E in più È necessario Per le ombre E per gli incarnati Metto anche Il terra Di siena Bruciata Perché Anche questo È un tono Fondamentale Per gli elementi Della natura Per il rifacimento Degli incarnati Per le ombre Insomma È uno di quei colori Che da ombra Bacciata dal sole Sapete L'ombra riflessa È necessario Che mischiato Altri colori Li scurisce Conferendo loro Una nota calda Quindi mi serve Indispensabile Senza alcun dubbio È un verde E per me Il verde Per eccellenza È il veronese Perché può essere Scurito E marcito Con questi altri due toni Mentre può essere Rischiarato Con il giallo È un verde Molto versatile È abbastanza Neutro Nella gamma Dei verdi E poi Come blu Differente da questo A cui non si potrebbe Arrivare mai Con il primario Prenderò Un oltremare Che è necessario In qualunque palette E infine Un nero Che non è proprio Nero scurissimo Ma è Uno smoke black Quindi è un nero Un po' leggero Come copertura Perché a me Gli acquarelli Troppo nero Con il nero Troppo spinto Non piacciono Bene Questa è una palette Secondo me Ideale Vi dà la possibilità Di ripingere Qualsiasi cosa Voi Vogliate Ho approfittato Della presentazione Di questo nuovo prodotto Per non farvi Semplicemente Un video sterile Di presentazione Ma anche Per farvi capire Come combinare Le vostre palette In un astuccio Che sia del tutto Personalizzato Spero che questo Aggancio Al nostro corso Vi piaccia Questa è L'ultima meraviglia Nata In casa Tintoretto È uno splendido Regalo Per gli acquarellisti Adesso però Torniamo All'utilità Perché questa È una bellissima cosa E io Vi ho dato L'utilità Di questa presentazione Spiegandovi Come comporre Una palette Perfetta Perfetta Per quelli Che sono Comunque I miei sentori Di sensibilità Figurativa Poi ognuno Magari predilige Cioè magari Chi prediligerà Più i toni freddi I toni caldi In tal caso Personalizzate La seconda Il vostro modo Di dipingere Ma è ovvio Per una recensione Completa Del prodotto Mi sembra Giusto Provare anche La performance Dei pennelli Perché Ovviamente Noi compriamo Un unicum E vogliamo vedere Se funziona Tutto All'interno Di questo Unicum Di questa Palette Perché se poi I pennelli Non performano Non diventa Più una pocket Se dobbiamo portare I pennelli Da casa Cosa che non credo Allora Perché conosco Già questi pennelli Nella versione Classica Proviamo Il Martora Colinsky Da un pennello Di martora Mi aspetto Una buona Flessibilità Una buona Distribuzione Del colore Una morbidezza Nella stesura Vediamo se mantiene Innanzitutto Analizziamo La flessibilità Beh direi Che la flessibilità Ce l'ha Un pennello Non flessibile Quando faccio Così Rimane piegato Cioè rimane Afflosciato Da una parte Mentre questo Come vedete Ritorna subito In asse Proviamo prima Un bagnato Su bagnato E direi Che la stesura È meravigliosa Morbida Sposta La pozzanghera In maniera Splendida Provo adesso A togliere Una parte Del colore Vediamo Nella rimozione È meraviglioso Anche nella rimozione Del colore Beh i pennelli In setola naturale Si sa Sono veramente Ottimi Come serbatoio Quindi sono ottimi Sia nel rilascio Che nel trattenere Quando voglio Tirare via Et voilà Perfetto Proviamo adesso Un bagnato Su asciutto Il bagnato Su asciutto Macchia Di più La carta Quindi adesso Proveremo A rimuovere Anche qua Una porzione Di colore Per vedere Se il nostro Pennello Ce la fa E direi Che ce la fa Perfettamente Direi proprio Che ce la fa Perfettamente Proprio Lo tira via In maniera Fantastica E adesso Vediamo La nitidezza Del tratto Anche se Nell'acquarello Non è una cosa Così fondamentale Però Questo ci fa capire Quanto le setole Siano tagliate Bene E direi Che è una meraviglia Si Non ci sono Sfrangiature laterali Non ci sono Perdite Aperture Del pennello Mentre c'è La pressione Della striatura Meraviglioso Questo martor Colinski È stupendo Adesso Proviamo Il pennello Numero 4 In sintetico Bronzo Da una setola Sintetica Io mi aspetto Che sia Flessibile Scattante Che espanda Bene il colore Anche se Questa è una punta Molto piccola Quindi dovrò fare Una campitura Adeguata Provo prima Il bagnato Su bagnato E direi Che è Flessibile Scattante Come vedete Essendo piccolo E meno E morbido Ma è Quello è ovvio Perché le setole Sono molto flessibili Vediamo se tira via Wow Tira via Benissimo Essendo più piccolo Ha un serbatoio Più piccolo Di Trattenuta Del colore Quindi dovrò Passare più volte Ma questo è normale Più grosso Il pennello Più Assorbirà No? È come se mettiamo Un panno grosso O un pezzettino Di carta Piccolissimo Bellissimo Adesso facciamo Un asciutto Un bagnato Su asciutto Sì Vigoroso Bello Però anche morbido Vedete Delicato E tiro via Anche di qua Un pochino E decisamente Ce la fa Vediamo adesso Il tratto Io trovo Questo pennello Ottimo Anche per il restauro Mentre Li provo Vi dico anche Le cose Per cui potrete Usarli Acquerello Restauro Perché il restauro Nella prima fase Viene anche fatta Con l'acquerello Quindi è Un ottimo Ottimo pennello Per entrambe le cose Quindi questa è una paletta Che sarebbe carina Anche per restauratori E poi Facciamo L'ultimo Questo è un pennello Sintetico vaio E devo dire Che è meraviglioso Perché Ora vi dico La differenza Tra questo pennello Che è un sintetico bronzo E il sintetico vaio Il sintetico bronzo Volendo Estrapolandolo Dalla palette Potreste usarlo Anche per l'acrilico E volendo anche per l'olio Perché le setole Così elastiche E flessibili Permettono anche L'immissione di materia Più spessa Più pesante Andiamo ad eliminare Un po' di colore Con questo vaio Stupendo La setola vaio Invece È una setola Sia naturale Che sintetica È una setola Sì Flessibile Qua la prova di flessibilità Neanche l'ho fatta Perché si vedeva ad occhio Che era un pennello Bello teso Nelle sue setole Qui la faccio Ed è un pennello Flessibile Ma anche morbido Il vaio Quindi Come vi dicevo Risulta più morbido Di una sintetico bronzo E quindi Poteva fare Più pasticcio E invece No Si è tenuto su Benissimo Guardate Ora faccio la pozzetta Qui Ed è veramente Proprio morbido È il vero pennello La martora Il vaio Sono i veri pennelli Da acquerellissi E tiro via Guardate come assorbe Seppur piccolo Perché la setola È più morbida Ed essendo più morbida Vuol dire che È più porosa Al suo interno Ha più Modalità Di Trattenere Acqua Quindi è un pennello Più adatto All'acquerello Anche questo Per determinate parti Quando dovete fare I profili Quando dovete mettere Delle ombre In maniera più dettagliata Ma questo invece È più adatto Per le pozzanghere Ampie Questo è un bellissimo Pennello Anche da decorazione Finto marmo Finto legno Decorazione Con colori Per ceramica Meravigliosi Allora Tre pennelli Con tre caratteristiche Molto differenti Il Martorakolinski Sarebbe un suicidio Provarlo Su acrilici e oli Questo Tenetelo caro Per l'acquerello Spande È perfetto Nella Immissione E Assorbimento Del colore Questo invece Il Sintetico Bronzo Usatelo Per l'acquerello Quando poi Diventa Un pochettino Più vetusto Passatelo Sicuramente Agli acrilici Ma anche agli oli Per le particole Reggiature È ottimo Questo Anche per Il restauro Come è ottimo Per il restauro Il vaio Questo è ottimo Anche per la decorazione Della ceramica Per la decorazione Delle tecniche Tipo Finto parmo E finto legno Ve l'ho detto Una Setola morbida Tutte e tre Setole molto elastiche In maniera Differente Queste due Elastiche E morbidezza Grande Elargizione Della materia pittorica Ma anche Grande assorbimento Questo invece Per i punti In cui vogliamo Essere più Controllati E precisi Bene Tre ottimi Pennelli Una bellissima palette Ripulito Ripulito E svuotato Il mio astuccio Sapete Ora cosa faccio Lo ripongo Metto Nella sua bellissima Scatola E ve lo regalo Sì Questo è per voi Visto Che le recensioni Di arte per te Non sono Per interesse Personale No Sono Per farvi Conoscere nuove cose Tant'è Che questo Ve lo regalo Ve lo regalo Per ringraziarvi Del vostro affetto Della vostra Simpatia Della vostra Presenza Del vostro esserci Così affettuosi Ve lo regalo Per questi anni Trascorsi insieme Per gli anni futuri Che verranno Ve lo regalo Perché vi voglio bene E credetevi È per me Una grande privazione Separarmene Però lo faccio Col cuore Perché vi voglio Veramente Veramente bene E voglio che un oggetto così Entri in una delle case di arte Per te Motivo per cui Non ho scritto sul titolo Che c'è il giveaway Quindi Assolutamente Per voi Per i fedelissimi Per quelli che guardano Anche le recensioni Fino alla fine E quindi Lasciate qua sotto Un commento Con l'hashtag Io ci sono Tutto attaccato Hashtag Io ci sono Non io partecipo Se no anche quelli Che non hanno visto il video Se ne accorgono Lasciate l'hashtag Io ci sono E tra quelli Che hanno lasciato L'hashtag Io ci sono Sorteggerò Questo Prezioso Strumento Da lavoro Unica regola Che vi chiedo Però È essere iscritti Ai miei tre canali Ombretta Due cuori una k E arte per te Anche solo per affetto Io sono sicura Che se venite a trovarmi Anche negli altri canali Anche se Apparentemente Sono argomenti Che non mi interessano Sono sicura Di conquistarvi anche là Quindi venitemi a trovare E iscrivetevi anche di là Poi se non vi piace Ve ne andrete Ma intanto Datemi la possibilità Di farvi conoscere I miei altri canali Ve lo dico In tutta onestà E in tutta sincerità Quindi Questo è per voi La scadenza È questa che vedete Qui È una scadenza Abbastanza breve Ma lo faccio Per comodità mia E anche vostra Per non farvi aspettare tanto In bocca al lupo A tutti E grazie per essere arrivati A vedere il video Fino a questo momento Un grande bacio Ciao In bocca al lupo Bene Come avete potuto vedere Dei prodotti Sensazionali Questi Per portare La nostra creatività Fuori dalle mura domestiche Ma anche no Ma comunque è un modo elegantissimo Per poter Lavorare all'aperto È veramente un modo bellissimo Ho approfittato Della vicinanza Della festa della mamma Per ricordarvi Che per queste occasioni Come in tutte le occasioni In cui c'è da fare un regalo Per le donne creative Questi Sono i regali più belli Perché molto spesso Noi mamme Magari non ci concediamo Il lusso di un pennello più bello O di un oggetto Che ci piaccia Inerente alla nostra passione artistica Per non intaccare Le casse della famiglia Ma in un'occasione In cui c'è da fare Un bel regalo Pensare alla creatività Della persona Che ci circonda di amore Per tutto l'anno È una cosa bellissima Perché la creatività Implementa la personalità Di ognuno di voi E regalando un oggetto Che serva Per fare creatività Voi partecipate anche Di quell'atto creativo Quindi ogni volta Che io adopero Un pennello Qualcosa che mi ha regalato Gabriele Per esempio Io in quel momento Sono ancora più contenta Perché è uno strumento Che sto utilizzando E che sta ampliando La mia persona Perché quando uno fa creatività Amplia il proprio ego E lo trasferisce Su quello che sta facendo Grazie anche All'amore di chi mi sta accanto Che mi ha regalato Quell'oggetto Quello strumento artistico Quindi tenete sempre In considerazione Gli strumenti artistici Come regali Bellissimi Per chi fa creatività E da oggi Ricordate che La meraviglia È tutta dentro Questo cofanetto Se poi volete farla Proprio completa Fate trovare Il cofanetto Già pieno di godè Alla persona A cui lo state regalando Vedrete che Ve ne sarà grata Per sempre Grazie a Tintoretto Per questi splendidi Accessori Che io sono stata Felicissima Di portare Su arte Per te Non prendete Questo video Come uno spot Pubblicitario Non vi sto dicendo Di andare a comprare Questi strumenti Assolutamente no Sto dicendo Che nel momento In cui Dovesse servire Qualcosa Per lavorare All'esterno Rigorosamente Made in Italy Preferiamo Sempre Ciò che viene Da casa nostra Aiutiamo Le aziende italiane A non perdere Terreno Da sotto i piedi Specie Quando producono Delle eccellenze Come fa La Tintoretto Bene Per questo video Vi dico Basta Auguri a tutte le mamme Mi auguro Che tutti Vi regalino Qualcosa di creativo Per divertirvi E dilettarvi Durante i vostri Momenti liberi Vi allegro Qui dove c'è Lei col pallino Altri video Che riguardano I regali Magari sono regali Di Natale Ma che vanno benissimo Anche per altre festività Per chi ama l'arte E vi do Appuntamento Sempre qua Per il prossimo video Da ombretta E da arte Per te Tutto Alla prossima volta Ciao